4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buongiorno, sono Davide Ancarani, abito a Quero e faccio parte del Consiglio Pastorale della Gestione Economica della Parrocchia. Parliamo della Scuola dell'Infanzia di Quero, scuola paritaria gestita dalla parrocchia. Vogliamo condividere con voi ciò che facciamo, ciò che stiamo realizzando al fine di offrire ai bambini e ai loro genitori la migliore scuola dell'infanzia possibile. Con la coordinatrice Barbara Cianavei, facciamo il punto della situazione. Partiamo intanto dalle cose pratiche. Da che ora accogliete i bambini e fino a che ora possono rimanere nella scuola dell'infanzia di Quero? La nostra scuola dell'infanzia, essendo una scuola paritaria, quindi più autonoma nelle scelte, è aperta dalle 7.30 alle 18 per andare incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano. Quali obiettivi per una crescita a tutto tondo dei bambini? Le finalità della scuola dell'infanzia sono regolate dalle indicazioni nazionali per il curriculum del 2012. Queste si propongono di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia la cittadinanza. Sviluppo dell'autonomia perché il bambino deve acquisire fiducia in sé e deve fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto. Sviluppo dell'identità perché deve imparare a conoscere e ad essere riconosciuto come persona unica. Competenza significa giocare, manipolare, curiosare, domandare, imparare attraverso l'osservazione e l'esplorazione. Avvio alla cittadinanza significa scoprire l'altro diverso da sé e progressivamente dare importanza agli altri. Come organizzate la scuola dell'infanzia? La scuola dell'infanzia è un ambiente educativo che valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espressioni come occasione di apprendimento. Privileggia esperienze concrete come opportunità per imparare. Spiegami meglio. Nella nostra scuola l'ambiente di apprendimento è organizzato in modo tale che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Per fare ciò lavoriamo per classi eterogenee, cioè classi in cui troviamo bambini di 3, 4 e 5 anni. Perché come diceva Maria Montessori, in questo ambiente c'è un osmosi mentale tra bambini che permette loro di apprendere dal compagno di età diverse più che da quello della stessa età. E poi affianchiamo al lavoro di sezione anche una serie di laboratori. Alcuni permanenti, cioè che durano tutto l'anno, altri invece che hanno una durata limitata di alcuni mesi. Perché scegliamo un'attività laboratoriale? Perché come diceva Bruno Munari, se ascolto dimentico, se vedo ricordo e se faccio capisco. Se questa è l'organizzazione, chi sono le persone che danno vita alla scuola dell'infanzia di guerra? Qual è il loro ruolo? I laboratori permanenti che proponiamo sono i seguenti. La psicomotricità, un laboratorio ottenuto da una terapista della neuropsicomotricità che si svolge settimanamente per tutti i bambini ed è vissuto nella palestra della scuola attrezzata con un materiale adeguato. In cosa consiste? Quest'attività consente al bambino la sperimentazione e il potenziamento degli schemi motori di base oltre allo sviluppo dello schema corporeo attraverso il gioco strutturato, libero e simbolico e garantisce una corretta percezione dello spazio temporale in rapporto a sé e agli altri. Il laboratorio di Glese come va? Bene, il laboratorio è gestito da un insegnante madrelingua. La maestra Roberta Carroll che vuole mettere il bambino attraverso il gioco e l'attività strutturata nelle condizioni di accostarsi alla musicalità e al significato della lingua straniera. L'approccio, esclusivamente giocoso, mira a promuovere la partecipazione di tutti i bambini. Noi giochiamo, sai, non è come alla scuola. Noi giochiamo, sai, non è come alla scuola. Primaria, secondaria, superiore, quando diventa stressante. Qua l'approccio è proprio quello là di divertirsi attraverso il gioco, il canto, la filastrocca. Ripetere le cose quotidiane in continuazione, così entrano in testa e dopo per loro è una cosa riflessiva che proprio non devono neanche pensare. Quello è lo scopo qui. Poi quando arrivano alla scuola primaria, loro hanno già una base per andare avanti. Poi quello che succede lì è compito di qualcun altro. Però qua vedo che hanno una bella preparazione per la scuola che verrà dopo. Eh, quello è il mio scopo qui, di prepararli. Poi quest'anno abbiamo un anno veramente favoloso, di bambini molto svegli, siano che vengono da una famiglia italiana, una famiglia cinese, non c'è nessun problema con il linguaggio. Apprendono tutti, sì, subito anche. L'importante è giocare e tenerli occupati. Però si lavora bene, si lavora benissimo. E noto che avete una forte attenzione nel preparare i bambini alla scuola primaria. Certo, abbiamo un progetto che si chiama Lettere e i numeri per i bambini grandi. Il progetto nasce dall'esigenza di fornire ai bambini che entreranno alla scuola primaria una serie di competenze relative alla prelettura, prescrittura e precaricolo. Questo andrà a gettare le basi didattiche sulle quali andrà ad innestarsi il lavoro degli insegnanti della scuola primaria. Qualche dettaglio in più? Il Laboratorio delle Lettere è un percorso di prescrittura finalizzato allo sviluppo di conoscenze informali sulla lingua scritta e sull'apprendimento di competenze linguistiche, fonologiche e narrative. Tutte le attività sono volte a sviluppare le potenzialità linguistiche, ad affinare il gesto motorio attraverso percorsi di pregrafismo, grafnotricità e sviluppo di competenze metalinguistiche. No, scusa babbara, fammi capire. Il bambino di 5 anni deve sapersi staccare dal semplice significato della parola e imparare a giocarci, per esempio minestra, finestra, oppure imparare a sillabare le parole, per esempio banana, ba-da-na, oppure giocando al gioco dell'arrivato un bastimento carico di mua. Cosa fate nel Laboratorio dei Numeri? Nel Laboratorio dei Numeri insegniamo ai bambini ad acquisire un linguaggio matematico adeguato all'età, per esempio insegniamo a contare da 0 a 20, da 10 a 0, 10, 9, 8, 7, 6, 0, che per un bambino di 5 anni non è così semplice. Inoltre insegniamo a stimare ad occhio la numerosità. E che cosa significa? Ad esempio disegniamo alla lavagna 6 palline e chiediamo al bambino di dire quante sono, oppure confrontando due gruppi di palline chiedere dove ce ne sono di più e dove ce ne sono di meno e tante altre cose ancora. Il Laboratorio delle Scatole Azzurre nasce come tecnica proiettiva da un'allieva di Jung e poi viene introdotto nelle scuole come tecnica educativa grazie a Paola Tonelli. Le scatole azzurre, come dice la parola stessa, sono azzurre perché riprendono il colore del cielo e del mare ed è una scatola in cui il bambino introdurrà gradualmente una serie di elementi naturali, foglie, legnetti, pigne, sassi, per costruire la sua storia all'interno della scatola. Le scatole azzurre permettono, oltre all'attività manipolativa, anche lo sviluppo di attività creative, del linguaggio e, in ultima, anche attività matematiche e scientifiche. Si, hanno un telo, un telo di nylon con la farina e loro lì lavorano, quindi si tirano sui pantaloni, si tirano sulle maniche, si mettono la farina nelle braccia e imparano a sentire quelli che sono i loro confini, cosa di cui hanno principalmente bisogno. Un po' alla volta si riduce la dimensione dello spazio, quindi arrivano con una scatolina piccolina, azzurra, prima con la farina e tante ciotoline dove loro travasano, da una parte e dall'altra. Il passaggio successivo è la sabbia, dove sentono una consistenza diversa dalla farina e poi viene proposta l'acqua, quindi con gli spruzzini loro vedono anche la diversa consistenza, quindi la sabbia che diventa malleabile, si può costruire con la sabbia, possono fare formine, ma una delle cose che piace di più e che passano più tempo è prendere in mano la sabbia e farla scivolare in mezzo alle dita. Ci sono anche altri laboratori? Sì, quest'anno abbiamo altri due laboratori, il laboratorio di teatro, che si terrà da un'insegnante laureata al Dams e specializzata in arte e terapia, e il laboratorio di cinese, tenuto dalla maestra Martina Lippia, laureata in lingue orientali all'Università di Venezia. Allora, adesso proviamo tutti insieme i numeri da 1 a 10, in cinese, tutti insieme, ok? Pronti? E dal prossimo anno c'è il bilinguismo. Eh sì, dal prossimo anno scolastico abbiamo intenzione di avviare la nostra offerta formativa con l'introduzione del bilinguismo italiano-inglese, dove il bambino verrà accompagnato per tutta la giornata da insegnanti sia di lingua italiana che di lingua inglese. Ma la scuola dell'infanzia non vive solo di insegnanti e di bambini, vi sono anche i genitori. No, per capo. Sono Cristina, sono mamma di 4 bambini, 2 maschi e 2 femmine. Tutti quanti hanno frequentato questa scuola dell'infanzia. I più grandi ormai sono le medie e le superiori. Nora frequenta l'ultimo anno, mentre Loris si appesta ad iniziare la sua nuova avventura a settembre. Con la prima bambina, non avendo esperienza, ho seguito i consigli di altre mamme, mentre con i successivi 3 ha fatto tesoro dell'esperienza vissuta e con grande consapevolezza gli iscritti in questa scuola. In 11 anni di rapporto con la scuola ho visto notevoli miglioramenti in una costante evoluzione delle attività proposte. I frutti di queste attività non si fermano alla scuola dell'infanzia, si rivedono poi anche alla scuola primaria nel rapporto con gli altri bambini e all'interno della famiglia. Un'altra parte importante di questa scuola è il dialogo costante con i genitori, che ha portato anche a diversi lavori fatti in collaborazione con i genitori e con i nonni. Sono Gloria e sono uno dei rappresentanti di classe dei genitori. La mia bambina Noemi frequenta il secondo anno di questa scuola dell'infanzia e anche il primo figlio, Michael, ha frequentato molto volentieri questa scuola. Io sono molto felice della scelta, sia perché io ho vissuto benissimo gli anni di asilo in questa scuola, ci sono passati il mio nonno, il mio papà, il mio fratello, tutti, sia perché l'attività formativa che offre questa scuola è veramente ampia e si incrementa in positivo di anno in anno. Numerosi laboratori venivano fatti anni fa con il mio primo bambino, che attualmente è in quarta elementare, sia dal punto di vista didattico che sportivo, di qualsiasi genere, fino ad arrivare ad oggi, dove sono in previsioni veramente dei laboratori diversi che poche scuole offrono, come le scatole azzurre, l'avvicinamento al teatro, che è molto positivo per i bambini per liberare e gestire le proprie emozioni. Insomma, la consiglierei veramente a chiunque per tutto ciò che offre, che sta veramente offrendo, anche in previsione al futuro. E non dimentichiamo i nonni. Sono la nonna di Anna e faccio parte di quel gruppo di nonni che alla mattina portano i nipoti alla scuola dell'infanzia e alla sera vengono a riprenderseli. Noi non mettiamo becco, certamente, sulle attività didattiche della scuola, però diamo sempre un occhio al giardino e ai giochi e che tutto sia sempre in ordine. Oltre ai giochi nel parco, quest'anno abbiamo molte altre novità. Sono Lara e ho una bimba iscritta al primo anno della scuola dell'infanzia Maria Vergerio Casamatta. Voglio descrivervi i nuovi allestimenti presenti da poco nella scuola. All'ingresso sul retro è stato installato un murales disegnato dall'artista trevigiano Aldo Rebuli, che nel presentarlo dice Ho pensato a ciò che un bambino di quell'età si trova di fronte, alle attività che vengono proposte all'interno della scuola. L'intento di una formazione che oltre a gioco porti l'alunno nella condizione di sognare cosa vorrebbe fare da grande. All'interno del salone principale è stata installata una casetta di legno dipinta di bianco. All'interno della stessa è stata posizionata una cucinetta già in uso alla scuola e ristrutturata per l'occasione. A quanto a questa, dall'altra parte è stata predisposta una zona di shop market dove i bimbi si potranno dilettare giocando ai negozianti. Non è una novità, ma è sempre un bel vedere sulla parete laterale del salone principale fa bella mostra un grande murales del maestro Vico Calabrò, raffrigolante un arcobaleno con giochi e bambini molto vivace e colorato. Questa è la scuola di infanzia Maria Bergerio Casamatta di Quello. Aspettiamo voi genitori e vostri bambini per vivere insieme il prossimo anno scolastico. Grazie a tutti.